Crescono i disturbi dell'apprendimento a scuola. A Piacenza si contano 2046 casi, erano 604 dieci anni fa. Difficoltà emergenti ai primi tempi dell'istruzione nel far di conto o nell'apprendere la lettura, o ancora, quando c'è da scrivere. È una legge, la 270 del 2010, ad aver riconosciuto questi ostacoli, dando loro una definizione ben precisa, disturbi specifici dell'apprendimento appunto abbreviati come DSA. Nulla è precluso a chi ne ha affetto, ma come in ogni ambito anche in questo la tempestività di diagnosi consente interventi mirati in aula, restituendo una piena capacità operativa ed integrazione. E grazie anche all'affinamento degli strumenti e delle abilità diagnostiche, nell'anno scolastico appena concluso sono stati segnalati 2046 casi a livello locale, ma le diagnosi sono di più quasi 3.000 perché ogni segnalazione può essere riferita a una o più tipologie del disturbo. Erano 604 dieci anni fa. Il fenomeno, o almeno la sua osservazione, appare in continua ascesa. In regione i casi complessivamente segnalati sono stati quasi 35.000.